Musica Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovo video di Fortnite Ragazzi, ho il marshmallow che mi sta piangendo in lobby Perché sta piangendo, fratello? Lo so io perché ci sono delle brutte notizie che debbo assolutamente dire all'interno di questo video Purtroppo si trattava di news ufficiali ragazzi Quando una cosa ti viene direttamente detta dalla Epic, da Marshmallow, da Ninja Ci vai a credere anche con gli occhi bendati Innanzitutto nel video mattutino di ieri vi ho mostrato questo screen Fate attenzione alla descrizione del video ragazzi Tramite questa possiamo leggere Guarda la Fortnite World Cup questa domenica Per uno speciale concerto di Marshmallow in game, in gioco ragazzi Se andiamo quest'oggi, nello stesso video di ieri andiamo a controllare la descrizione Non sarà più uguale a ieri e potremo leggere qualcosa di diverso Infatti anziché esserci scritto in gioco Ci sarà scritto per una performance speciale di Marshmallow Sempre tramite la World Cup eccetera eccetera Qui c'è da dire che ha failato davvero di brutto il management di Marshmallow Vedendo i vari tweet tra di loro, tra Epic Games, tra Ninja, tra Marshmallow Magari si ci poteva credere a qualcosina ragazzi Dato che oramai la Epic ragazzi va a criptare qualsiasi tipologia di file Si riescono ad avere sempre meno leaks a portate di mano Quindi ci poteva davvero stare che l'evento sarebbe stato criptato Fino ad un minuto prima che venisse rilasciato In ogni caso ragazzi non lo so Sono davvero confuso Anche perché ragazzi l'altra mattina quando stavo registrando quel video Anche per me era difficile da credere una cosa del genere Ho detto possibile che non l'hanno spammato da nessuna parte E purtroppo ragazzi è andata così Però era necessario informarvi Anche perché i fatti parlavano chiaro ragazzi Evento in gioco, Marshmallow eccetera eccetera Quindi non potevo non farci un video Adesso la cosa si è rivelata essere tra virgolette falsa E di ciò mi dispiace tantissimo Comunque sì io non ho idea di che cosa abbiano in mente questi qui della Epic Sicuramente ci sarà proprio una live performance all'evento stesso Quindi dove si sta giocando la World Cup In ogni caso potrei fare una restream assieme ad un commentary con voi Però sicuramente poi mi vanno a bloccare il canale per copyright Quindi non ne sono sicuro Ad ogni modo ragazzi passiamo avanti Ragazzi avete visto la clip iniziale dove appunto ci facciamo un giretto Attorno alla sfera Sta diventando qualcosa di veramente pazzesco Il battito ovviamente se vi avvicinate ad essa È sempre più accentuato ed è impossibile negarlo Ma oltre al battito ragazzi Sono l'unico che ha quel feeling Come se si trovasse all'interno del Nexus Secondo voi sarebbe bello riuscire a sentire qualcosa di veramente simile Che abbiamo già ascoltato nell'evento Nexus Mi riferisco proprio all'OG Music Quest'atmosfera, questi suoni che riesco a percepire qui a sponde del saccheggio Non lo so perché ma è come se mi ricordassero proprio l'inizio dell'OG Music E se una volta esplosa la sfera rilasciasse questa musichetta ragazzi C'è questo trip mentale al momento nella testa Anche perché ogni giorno ragazzi rilascia sempre qualcosina in più I frammenti aumentano I suoni aumentano E mancano pochissimi giorni alla season 10 Tant'è che oggi 28 luglio riusciremo ad avere il primo teaser che riguarderà questa nuova stagione È proprio così ragazzi Lo hanno annunciato anche alla World Cup Oggi ci sono proprio le finali della Coppa del Mondo E tramite questa avremo il primo sneak peek Domani il secondo Dopodomani il terzo E forse ci potrebbe essere anche un quarto teaser Ad ogni modo se avete seguito le mie live precedenti Dove vado a presentare ogni singolo teaser giorno per giorno Sicuramente vi ricorderete che questi vengono sempre rilasciati tra le 3 e le 4 del pomeriggio Ecco il primo teaser sicuramente non verrà rilasciato in quella fascia oraria Anche perché la World Cup oggi dovrebbe iniziare intorno alle 18.30 Da domani però credo che poi cominceranno i vari post su Twitter Ed ovviamente seguiremo ogni singolo post in live della Epic Non vedo l'ora ragazzi La nuova stagione poi forse avrà un titolo diverso Quindi non aspettiamoci season 10 Bensì un bel season X Ovviamente X inteso come numero romano e quindi 10 Comunque sì ragazzi Questa è l'ospensione della live di ieri Quindi della seconda giornata della World Cup In cui appunto annunciano il fatto che oggi verrà droppata la prima immagine della season 10 Ascoltiamo Let's go ragazzi let's go Per il momento una delle immagini che è comparsa tramite il Playstation Store Sessione giochi gratuiti È proprio questa qui ragazzi Va a rappresentare il famosissimo Battle Bus con dietro una X Immagine postata molto probabilmente per sbaglio per il momento E che appunto si collega alla season 10 Ragazzi non vedo l'ora di vedere quale sarà la prima immagine offerta da Epic Sperando che non sia proprio questa vista dal Playstation Store Perché è zero per il momento Come già detto ovviamente ogni giorno faremo la live in cui aspetteremo il singolo teaser per tutta questa nuova season Adesso passiamo allo shop giornaliero Ma credetemi per il momento ho una delusione addosso incredibile Sia per il video di ieri mattina in cui vi ho trasmesso tantissimo hype Per poi dirvi alla fine che era solamente un loro errore Spero solamente che stasera si rifacciano ragazzi Io ci spero ancora davvero ci spero ancora Vi ricordo che oggi è la finale delle finali E quindi andremo a raccogliere anche un terzo premio Ovvero la copertura linea rossa Raga ma poi un'altra cosa In quanti hanno ricevuto ieri questo bellissimo spray della World Cup 19? È uno spray animato è fantastico Vediamo tramite un bel like in quanti al momento ce l'abbiamo Dai raga Mi piace troppo raga Mi piace mi piace mi piace In ogni caso ricollegandoci alla World Cup ragazzi Tra le notizie possiamo leggere ultima occasione Infatti tutti gli item che riguardano questo evento rimarranno fino alle 2 di stanotte Dopodiché spariranno ragazzi Non saranno mai più messi in circolazione E questa volta per davvero Quindi se li avete shoppati ragazzi buon per voi Non saranno mai più implementati all'interno del negozio oggetti Detto ciò raga negozio oggetti scopriamo lo shop di oggi Eccovelo qui Ok Ragazzi posso già chiudere lo shop È stato un piacere portarvi questo video mattutino Davvero non c'è nulla ragazzi Non c'è assolutamente nulla Che vi possa presentare Allora c'è calcafiamma Ci sono i livelli del pass battaglia Movimenti eleganti Ed bang come emot Bacendo la coppa è un emot che è uscita ieri Raga spero che l'abbiate acquistata Perché anche questa credo che non tornerà mai più nello shop Movimenti eleganti C'è piaccia Head banging ragazzi È un emot che mi rappresenta Non con questo sound Bensì con altri Ma mi piace Mi piace GG GG Le skin degli standardi ragazzi Non so da quanti giorni le stiano spammando nello shop Ci sta ragazzi Per l'amor delle skin Ci sta Ci sta Marshmallow Vabbè è uscito ieri Oggi c'è l'evento Marshwalk Eccetera eccetera Pesce secco Ci sta Assieme a tutte le skin della World Cup Va benissimo E però ragazzi Questo è lo shop di oggi Non credo che vogliate guardare qualcos'altro Quindi io spero che questo video Informazioni mattutino Vi sia piaciuto E che soprattutto vi sia stato d'aiuto Se così fosse raga Mi raccomando Un bel like al video Condividete con tutti i vostri amici Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti ragazzi Siamo quasi ai 400.000 Dai ragazzi Forza 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 Noi ci pecchiamo molto ma molto presto Un salutone da Martex Siaproders Noi ci pecchiamo molto ma presto 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 Noi ci pecchiamo molto ma presto